Clamoroso ragazzi, siamo levati i turbe d'arcazzo e questo video sicuramente mi verrà bollato, ma chi se ne frega Kiss finalmente una notizia positiva, 5 milioni di euro, qualcuno ha detto 8 e mezzo, i siti e i giornali italiani hanno detto 5 milioni Quelli messicani hanno detto 8 e mezzo, a me va bene pure 5 milioni Ragazzi, il tiquana, proprio tequila, sesso, marijuana, così viene chiamato, ma a questo punto direi anche pipponi Posso il telefono perché se non ci capita niente, uosso qua, ci si è preso i turbe ragazzi, ci si è preso ma clamoroso Non ci posso credere, non ci posso credere, qualcuno poi mi dirà, sicca ma non eri tu che eri tanto felice quando la Roma ha preso i turbe? Sì, basta è una pippa, è una pippa, pensavo meglio, invece era proprio una pippa, una pippa, ora non me ne voglia i turbe Che gli voglio bene fra l'altro perché se impegnava, se impegnava sempre, lui se impegnava tanto, andava, se bruciava per quanto si impegnava Come vedete, mi sembrava un motorino, ma non riusciamo a fare niente Finalmente qualcuno se l'è preso, regà, prestito con obbligo, di riscatto, obbligo, di riscatto Quindi se lo piano, nella stessa sessione di mercato, siamo riusciti a piazzare i turbe e Dumbia Per questo per me, monci, motoria pure i ventesimi, monci, ti amo Al di là di tutto, se riuscite a piazzare i turbe e Dumbia, ci ha fatto pure i soldi Regà, io non ci posso credere E' arrivata questa notizia, ho detto, oh mio Dio, oh mio Dio Anche perché, no, tenevi i turbe, come minimo a Roma ti diceva Guarda, c'hiamo Florenzi, c'hiamo i turbe, c'hiamo Yunda, c'hiamo Gerson, c'hiamo Sciarabu, c'hiamo Perotti L'esterno non lo compramo Io andavo dai turbe, lo rapivo in modo che almeno qualcosa si muoveva Muo adesso, manca l'esterno ancora ed è vero Però già che siamo riusciti a piazzare i turbe per 5 milioni di euro Regà, fa brodo, fa brodo Fa veramente, proprio contento Grazie Tijuana, grazie, grazie In Messico è nato questo, 5 milioni di euro in Messico Ma te rendi conto? Ma vi rendete conto? Era bravo a Lella Sverone, regà Era bravissimo, ma a Roma era una pippa Io ero contentissimo quando è arrivato, oddio Questo sarà un fenomeno, sì, a 20 ceci Fatemi sapere qui sotto Che cosa ne pensate, ragazzi Vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0 Che a prendere i pronostici è bravissimo Per i consigli sui pronostici, andate da lui Che vi devo dire, regà, il 2 settembre Sanremo al ristorante Le Streghe Mi raccomando, prenotate, chiamate il numero Se mi ricordo ve lo lascio qua sotto, come sempre Ultima cosa che vi dico, Fanta Versus Ragazzi, io sono su Fanta Versus Quindi scaricate l'applicazione Fanta Versus E cercatemi, si, mettete follow Almeno, tranquillamente Mi trovate a me, va tutto bene E vedete la formazione, se vi interessa Che pubblico durante tutto, tutti l'anni Grazie Tijuana, grazie